Beatrice Dallabarba, il Ministero della Salute denuncia questo grave fatto delle mamme che rinunciano all'allattamento dopo i tre mesi. Io credo che il dato corrisponde abbastanza alla verità, però io cambierei il verbo. Non è la mamma che rinuncia all'allattamento, è la mamma che non viene sostenuta sufficientemente per continuare l'allattamento. Le indagini mondiali, questi sono dati dalla letteratura, dimostrano che il 95% delle donne desidera allattare. Infatti è questo che denunciano gli operatori della maternità che dovrebbero stare vicino alle mamme e insegnare anche come allattare perché tante volte si hanno dei problemi proprio all'inizio e quindi bisogna seguirle. Certo, infatti questo è un lavoro che noi stiamo facendo e tra l'altro qui in azienda stiamo facendo un lavoro egregio. Devo dire perché abbiamo formato 2500 operatori a Padova finora con il corso dell'OMS e dell'UNICEF. Il problema è che successivamente cosa succede? Che a tre mesi il bambino è in carico al suo pediatra. Allora è facile che le mamme abbiano delle difficoltà oppure abbiano dei dubbi? Oddio non ho latte? Allora se la risposta che ricevono è mandi il suo marito in farmacia a comprare latte artificiale la mamma pensa che questo sia giusto invece che insegnarle come proseguire e rassicurarla sul fatto che lei è capace di essere donna, mamma e mamma nutricio. E' anche una spinta delle case farmaceutiche questa per allattare con il latte artificiale? Questo è molto risaputo. C'è stata anche un'indagine molto seria fatta alcuni fa in cui sono state condannate perché fanno cartello le ditte che producono i latti. Pochi sanno che esiste un codice internazionale per la commercializzazione dei sostituti del latte materno che è firmata anche dal governo italiano. Purtroppo questi titoli, gli argomenti del codice non sono tutti legge. In Italia però è legge il fatto che è proibito pubblicizzare i latti artificiali, è proibito sponsorizzare i pediatri o personale sanitario per andare ai congressi pagati dai latti. Questo è proibito. Come è proibito prescrivere il latte artificiale nelle lettere di missione dei bambini? E' evidente che l'azione che facciamo noi nei confronti dell'allattamento al seno spesso è un'azione di contromarketing. Diciamo qualcosa a queste mamme perché allattino i bambini, perché è una cosa che fa bene sia ai bambini sia che alle mamme. Certo. Allora, a me piace ricordare che l'OMS già molti anni fa ha sancito una cosa fondamentale. L'unico, il più potente indicatore di salute al mondo è il latte materno. Però ci tengo anche a dire, molto forte, che il mio obiettivo e il nostro obiettivo qui non è e non sarà mai quello di convincere le donne ad allattare, ma piuttosto quello di aiutare quelle che desiderano a riuscirci. Vorrei aggiungere, nonostante noi. Allora, a me piace, nonostante noi.